autofficina urbinello autofficina specializzata via emilia 136 a taranto siamo con il titolare michele urbinello lo abbiamo colto all'opera indaffaratissimo tanto lavoro ma è anche il momento di rivolgere un augurio ai suoi clienti e alla nostra città assolutamente sì ovviamente noi tutti auguriamo un buon natale soprattutto un anno nuovo a tutti i nostri clienti e non solo tanto lavoro tanti sacrifici ma anche la soddisfazione di ricevere la stima l'affetto di chi si fida dell'autofficina urbinello certamente ci fa piacere ci fa piacere il tanto lavoro sta a significare evidentemente che abbiamo siamo riusciti a seminare bene esatto natale è un momento in cui si è più buoni con tutti si pensa anche a chi soffre alla gente meno fortunata di noi natale deve essere per tutti vabbè ahimè purtroppo un tasso dolente ma è così un felicissimo natale e un 2022 ricco di prosperità ricco di serenità un modo per avere chissà una taranto diversa ce lo auguriamo tutti grazie a tutti